C'è del Sambiase alla guido di Polito di Lamezia Terme nell'andata dai play-out per evitare la retrocessione in eccellenza. Esulta e gioisce l'agropoli di Franco Delisanti che con un gol per tempo spegne quasi definitivamente ambizioni e speranze dei giallorossi. I Delfini hanno meritato il successo con una condotta di gara davvero attenta e senza sbavature ma il Sambiase è stato anche sfortunato con due traverse colpite da Curcio. Ed ora la gara del ritorno alla guariglia di Agropoli è quasi formalità. Al Sambiase penalizzato tra l'altro dalla peggiore classifica finale rispetto ai campani infatti servono tre gol di scarto per salvarsi. Il tecnico Aita dice di crederci ancora ma obiettivamente serve un'impresa quasi impossibile. L'allenatore cilentano Franco Delisanti afferma invece di temere ancora questa gara ma il cammino per la sua squadra è tutto in discesa. Il Sambiase è sostenuto dalla curva ma ci si aspettava ben più apporto di pubblico alla guido di Polito almeno per questa gara così decisiva. Non parte male. Aita schiera tre punte di movimento ma è privo dell'importantissimo perno di centrocampo. Toni Lio è squalificato. Assenza pesante anche per gli ospiti è quella di Mallarto. La squadra giallorossa prova ad aggredire subito l'Agropoli e lo spaventa fortemente con la traversa centrata da Curcio al sesto minuto. Il pubblico di casa ci crede ma al primo vero a fondo i cilentani fanno male e il 28esimo Ragosta innesca Mascolo il quale di testa gira in porta e supera Desio. 1-0 Agropoli. La rete bianco-azzurra sembra avere spento l'ardore dei padroni di casa. Gli attacchi infatti sono confusi e blandi. I lanci lunghi non premiano di certo né Savasta né Mercuri né Casciaro. L'Agropoli controlla senza affanni ed evidenzia con calma la sua migliore quadratura. Non soffre quasi mai la squadra di Delisanti se non qualche isolata affolata Sambiasina. Ci si aspetta nella ripresa una Sambiasi indiavolato ed invece il copione è identico. Il Sambiasi attacca senza idee. Le occasioni più pericolose sono tutte dell'Agropoli vicino al raddoppio un paio di volte in contropiede la migliore al 77esimo con Ottonello con gran risposta di Desio in corner. E così Aita vede i suoi nette difficoltà e prova le carte Russo e Manfred giocando praticamente con quattro punte. Russo ha il merito di portare più vivacità nell'attacco Sambiasino ma di tiri in porta neanche l'ombra tanto che Vaccaro soffre soltanto su qualche corner dalla sinistra. Cosicché un Agropoli sempre più tranquillo chiude il match e dal 90% anche qualificazione al 5 minuti dal termine. Ragosta scatta sul filo del fuorigioco e con invidiabile freddezza Gela Desio incolpevole. Rete sicuramente bella per esecuzione ma nettamente viziata da un fallo a centrocampo di un calciatore agropolese grave. Quindi la disattenzione di arbitro e collaboratori in quanto questo episodio potrà risultare decisivo in chiave salvezza. Nel finale l'incubo continua quando ancora la traversa nega ancora Curcio su calcio piazzato o quantomeno il gol della bandiera. Subito dopo si scatena la contestazione e la rabbia dei tifosi Sambiasini contro la propria squadra alla quale imputano una prestazione ben al di sotto delle aspettative e priva della giusta cattiveria agonistica. Fu morgen in campo e gara sospesa per alcuni minuti finché il capitano Morelli e il dirigente Sambiasino Antonio Mazzei riescono a placare gli animi dei supporters locali. Ben sette minuti di recupero e poi alla fine c'è soltanto la gioia dell'Agropoli che festeggia con i suoi tifosi giunti in Calabria. Il Sambiasi è davvero vicino al baratro ma il dovere di crederci fino alla fine anche nella gara di ritorno. Mister, è tutto per tutto? No, è tutto per tutto no. Abbiamo assi 90 minuti da giocare. È chiaro che adesso diventa molto difficile però abbiamo l'obbligo di tentare il tutto per tutto quindi andiamo lì a cercare di fare l'impossibile. Mister, però a prescindere dalla mancanza di Lio abbiamo visto poche cattiveria in avanti, è d'accordo? Ripeto, loro erano sistemati bene, erano otto uomini, anzi addirittura nove con Ragosta che intietreggiava sempre dietro la linea della palla tant'è che noi molte volte abbiamo dovuto cercare il lancio lungo per scavalcare la difesa perché non c'erano spalzi. Il momento in cui poi sono passato in vantaggio ancora di più hanno difeso bene e poi ripartivano anche cercando di mettersi in grossa difficoltà. Non è stata sicuramente una delle migliori prestazioni però prima ancora, fino a quando hanno fatto gol, penso che abbiamo fatto delle cose buone dove magari con un pizzico di fortuna potevamo magari passare noi in vantaggio e forse cambiava qualcosa. Mister, ben messi in campo, non avete sofferto quasi mai sostanzialmente come ho appena detto? Sì, sono d'accordo. Guardate, l'Agropoli che ha fatto i play-out è davvero un delitto, noi non meritavamo di farlo nella maniera più assoluta perché sia come organizzazione di gioco sia a livello societario non meritavamo i play-out però nel calcio non si finisce mai di imparare qualcosa. Quest'anno ci sono state delle cose che sono sfuggite un pochettino alla logica, anche se nel calcio logica non è che ce ne sia tanto, però ci troviamo invischiati in questa situazione con una squadra e con un gioco che non meritavamo assolutamente.